Al salotto del mix 2012 Antonio Baldassarra, amministratore delegato di C-Web Italia, che ringraziamo del suo contributo. Gli chiediamo cosa ne pensi della recente proposta di Peering di Telecom Italia, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani. Grazie di avermi voluto sentire su questa questione. Il mio punto di vista è sia aziendale, perché chiaramente dal punto di vista dell'azienda che rappresento ho degli interessi specifici su come sono i meccanismi di pricing e dell'interscambio di traffico, ma anche dal punto di vista da utente della rete ho una posizione su questo argomento che incidentalmente è abbastanza coincidente con quella dell'azienda che rappresento. In buona sostanza io ritengo che un tipo di nuovo modello di pricing a qualche livello tra gli accordi di interconnessione, che possa portare una forma di penalizzazione su quello che è il servizio in ultima istanza fruito dall'utente, comunque sia abbastanza da analizzare con attenzione, sia dal punto di vista della perdita di qualità di servizio e quindi della perdita di percezione di quello che può accadere col cappello dell'utente, ma sia anche di quanto questo nuovo modello di pricing sull'interscambio di traffico possa avere come effetto sui nuovi entranti nel business. Perché non dimentichiamoci che il business di internet è tutt'altro che un business maturo, quindi se oggi noi guardiamo delle prese di posizione come quella per esempio sul paid peering di Telecom Italia, che io guarderei in maniera più estensiva perché secondo me quello che è in gioco non è tanto il paid peering ma è la contrapposizione tra il modello bill and keep, cioè accedo alla rete e pago con il modello invio nella rete e pago, che è di cara estrazione telefonica. Secondo me il vero dualismo è su questo punto. Mentre il modello bill and keep è un modello fortemente orizzontale che sostanzialmente non pone badire di ingresso a nessuno e quindi nemmeno ai nuovi operatori, cioè immaginiamo, adesso facciamo un nome di quelli molto combattuti sul momento, immaginiamo una Google che è potuta, o un Facebook o roba del genere, che ha potuto esprimersi con un modello bill and keep proprio perché quando era piccola, passatemi il termine, non ha avuto soglie che ostacolassero l'ingresso al mondo della rete. Un modello basato tipicamente telefonico, quindi basato sul fatto che paga chi mette nella rete, quindi con un paradigma completamente diverso, fa sì che alza questa soglia in maniera rilevante, tant'è che preclude sostanzialmente a quelli che sono gli operatori entranti, operatori dal punto di vista dei contenuti, dei servizi o quant'altro, preclude l'accesso alla risorsa della rete. Quindi paradossalmente se il problema del paid peering può essere abbastanza secondario per una realtà già sufficientemente strutturata, quale paradossalmente nel nostro piccolo potrebbe essere anche per noi, cioè potrebbe rientrare tra i costi sopportabili poi da ribaltare sul cliente e quindi avrebbe in effetti il cattivo effetto di aumentare un costo, il costo della percezione come si suol dire per il cliente finale. Sicuramente per un operatore entrante nel business rischierebbe di essere un ostacolo rilevante. Per come la vedo io dovremmo cercare di preservare quanto più possibile una delle più importanti risorse che la rete in questo momento ha avuto, cioè la capacità di crescita, cioè la capacità di crescere e la capacità di aprirsi a nuove realtà, a nuovi player, a nuovi operatori. Paradossalmente vedo questo modello invece un modello molto più che punta a conservare quello che c'è e non a predisporre quello che ci potrà essere in futuro. Personalmente sono molto critico su questo tipo di approccio che puntualmente non genererà business specifico, cioè nel caso di Telecom Italia, visto che parliamo di Telecom Italia, a passare al paid peering non genererà del business, anzi io personalmente mi sono permesso di fare delle simulazioni per cui ritengo che addirittura lo perderà del business in quello che è l'aggregato degli operatori. Ma il vero enorme danno sarà secondo me quello di generare un ostacolo artificiale a quello che è lo sviluppo della rete.